Musica Ho tutti l'augurio di una buona giornata, buona mattinata, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV questa è la rassegna stampa, cominciamo subito dal santo di oggi anche se c'è da ricordare semplicemente che oggi è venerdì santo e dunque si celebra la passione del Signore è il momento culmine di tutto l'anno, è il momento culminante dell'amore la morte di Gesù sulla croce si abbandona al Padre per offrire la salvezza al mondo intero esprime l'amore donato sino alla fine, senza fine e oggi avremo delle celebrazioni, intanto il sole è sorto alle 6.26, tramonterà il 19.51 avremo delle celebrazioni che trasmetteremo in diretta alle 5 del pomeriggio dalla Basilica Vaticana con il Papa e poi stasera, lo ricordo, la Via Crucis in diretta dal Colosseo andiamo a vedere adesso invece il tempo, il tempo questo è trebimeteo.it il tempo per oggi sulla Regione Marche, il tempo vedete è sereno le temperature stazionarie per la giornata di oggi domani sabato ancora tempo buono anche se comincia, c'è questo impulso fresco che transita sul nord Italia diretto verso l'Adriatico coinvolgendo anche le Marche nel corso della giornata iniziale variabilità, impeggioramento dal pomeriggio sera di domani con sviluppo di acquazioni e temporali soprattutto nelle Marche ed eccolo il tempo per la giornata di Pasqua il fronte è giunto proprio il giorno precedente, scivola verso sud lungo l'Adriatico interessando ad inizio giornata ancora il medio Adriatico con qualche pioggia dunque seguite da un po' di schiarite nella giornata di Pasqua e nel pomeriggio tuttavia variabilità sulle zone interne appenniniche con qualche locale scroscio, questa è la fotografia del mattino poi questa è invece la situazione prevista per il pomeriggio, la sera e la notte che cosa succede invece il giorno di Pasquetta? eccola qua la previsione dei meteorologi di Trebbimeteo il giorno di Pasquetta si pronuncia variabile allora andiamo a vedere adesso i giornali, cominciamo con le due prime pagine il resto del Carlino e il Corriere Adriatico il Carlino in prima pagina mette la mostra sul rinascimento di Vittorio Sgarbi che riesce a mettere insieme Pesero, Fano e Urbino con una triplice inaugurazione poi sotto la testata Sabatini, un doloroso addio, camera ardente in fondazione l'esequia del Presidente domani mattina in Duomo a Pesero ufficiate dall'Arcivescovo Piero Coccia poi a Gabice Mare le truffatrici arrivano in camera da letto la centenaria però le fa fuggire e poi un lentissimo ritorno delle strade ex statali all'Anas ci sono tanti passaggi intermedi però questo è quello che si sta tentando di fare cioè riconsegnare le strade provinciali all'Anas andiamo adesso sulla pagina invece principale la prima pagina del Corriere Adriatico allora in evidenza sull'edizione di Pesero una mega antenna che è stata posizionata tra il ponte e la stazione di Pesero praticamente molti chi conosce Pesero che è stato a Pesero eccetera tanto per farvi capire sta di fronte o di fianco di rimpettaia alla statua della Madonna che si trova proprio sul ponte vicino alla stazione ferroviaria è un impianto telefonico che ha avuto l'ok anche del Comune di Pesero però è polemica adesso sul luogo troppo centrale e troppo visibile a centro pagina la fotografia dei giocatori dell'Ancona i quali dicono la società è poco limpida ci sono sospetti sulle scommesse che provocano appunto la reazione dopo la vittoria con il Parma di Parma la procura indaga su questo episodio la vis Pesero invece a Mateliga pareggia 3 a 3 bis di Costantino entriamo nelle pagine interne e apriamo la pagina di Fano le due pagine di Fano dei due quotidiani sono dedicate all'ASET alla nuova ASET l'ultimo atto oggi le nomine del Consiglio si parla dell'Avvocato Paolo Originelli come Presidente il Sindaco di Cartoceto dice si potrebbe pensare ad un'alternanza dei rappresentanti dei Comuni si è concluso dunque l'ITER nasce questa nuova ASET che adesso entrerà dunque in azione e la pagina di Fano del Corriere Adriatico anche qui debutta oggi alla nuova ASET unica Reginelli nel ruolo di Presidente la fusione mirata a mettere in sicurezza la gestione pubblica dei servizi ponendo un freno all'espansione di ERA dunque Paolo Originelli lo vedete in questa immagine qua sopra lo cerchiamo con un altro colore il colore verde torna ad un ruolo dunque sociale l'Avvocato che anni fa faceva il difensore civico nel CDA resta l'uscente Capodagli e arriva anche Galasso allora dicevamo della centenaria a Gabice che ha fatto fuggire due truffatrici le ha bloccate erano già in camera da letto e sono state messe in fuga da questa nonnina che ha quasi 101 anni ma che ha del coraggio e un intuito da vendere il figlio della donna dice mia mamma si è insospettita per le domande che le facevano erano già in camera da letto sono state messe in fuga Iolanda si è accorta che una ragazza stava rovistando dentro un cassetto e così ha cominciato ad urlare le donne, queste donne le avevano chiesto di entrare in casa per consegnare un foglio al vicino ma evidentemente questa era una trappola un'altra invece altre situazioni di truffe a Pesaro dobbiamo verificare i sacchetti dei rifiuti questa è un'altra scusa quindi se bussano alla porta vi chiedono dobbiamo verificare i sacchetti dobbiamo verificare una bolletta insomma chiunque si presenti alla vostra porta e voi non sapete chi sia o chi siano se sono più di uno lasciateli fuori dalla porta e chiamate la 112, 113 chi vi pare ma non li fate entrare perché farli entrare significa avere già i ladri dentro casa e quindi è difficile poi farli uscire l'ultimo raggiro fa leva sull'ecosostenibilità almeno tre tentativi di truffa denunciate dai carabinieri ma le anziane vittime brave queste nonnine che finalmente si sono svegliate le anziane nonnine vittime non ci sono cadute non ci sono cadute segnalazioni sono arrivate però da Soria e a Cattabrighe con lo stesso copione da parte di due donne ok? allora andiamo avanti vandali e sbandati a Villa Marina siamo sempre a Pesaro siamo sul Carlino pietrate contro una vetrata di Pesaro Studi è stata chiamata la polizia poi è importante questa invece questa notizia e questo incontro che si terrà giovedì 20 aprile nella sede di Confindustria a Pesaro per parlare di sicurezza chi ha un'azienda piccola, media non importa ma chi ha dei computer sanno benissimo che in questi mesi ultimamente stanno entrando dei virus incredibili che cancellano tutti i dati ed è terribile perché davvero si perdono tutto quanto ed è un dramma per chi ha archiviato i dati e quant'altro e spesso poi arrivano telefonate anche dall'estero per chiedere se vogliono installare un programma a pagamento naturalmente per poter riavere questi dati quindi c'è tutta un'organizzazione questi cyberattacchi questi attacchi informatici che sono sempre dietro l'angolo anche qui ne abbiamo tante di aziende colpite da questi attacchi e allora c'è questo incontro per dire che tutte le aziende devono attrezzarsi un convegno con esperti indicherà dunque le contromisure abbiamo detto giovedì 20 poi il racconto sulla pagina di Fano la storia di Francesca e i suoi viaggi il mal d'Africa sento che non ho ancora finito la giudice lei è una cameriera di 40 anni volontaria dell'Africa Chiava che dice adoro quei bambini mentre c'è l'avviso del presepe pasquale che è visitabile anche durante le feste di Pasqua nella domenica di Pasqua ma anche lunedì di Pasquette martedì 18 aprile prossimo dalle 16 alle 20 dunque con questo orario pomeridiano il presepe di San Marco a Fano sarà aperto andiamo sulle pagine di Urbino Urbino la storia di un di un 51enne si chiama Abrahim El Hassali originale del Marocco ma in Italia dal 1990 che ha trovato un portafoglio pieno di soldi e lo ha restituito è dipendente dell'azienda Angeli di Talacchio vento in poppa invece per Stefano Guzzi l'ex sindaco di Fano che adesso in corsa per diventare sindaco di Colli al Metauro dice lui io sono ancora l'unico candidato ora vorrei un avversario ancora è l'unico infatti a fare campagna elettorale per il comune di Colli al Metauro ricordiamo che si vota a giugno quindi insomma non è che manca poi manchi poi così tanto tempo però lui in questo momento ha il vento in poppa essendo da solo Vale del Cesano il teatro Tiberini è ora un gioiello anche per le luci e l'impianto video conclusi i lavori per la mei San Norma sul palcoscenico del paese della musica stiamo parlando del teatro a San Lorenzo in campo i lavori partiranno a luglio questa è l'assemblea che si è tenuta ieri sera dove a Terre Roveresche dove il presidente della provincia Tagliolini ha presentato il crono programma per sistemare la voragine la voragine sarà chiusa dunque per Natale ma l'assegnazione ancora non è avvenuta dagli anni 80 torniamo alla pagina di Fano del Corriere Adriatico dagli anni 80 il ruolo guida della città per i giovani la candidatura capitale per il 2018 esaltata da Tomassini per meriti storici Roma e il rinascimento per sopperire alle chiusure Pinacoteca Museo Civico e Santa Maria Nuova non disponibili per i turisti e poi da Senigallia l'ultima pagina studenti in gita autista ubriaco o brindato per la Juventus dice lui accompagnava San Marino 35 ragazzi di un istituto professionale di Senigallia la rassegna stampa si conclude qui io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ho già ricordato gli appuntamenti di oggi venerdì santo e vi ricordo come ormai avviene da 11 anni a questa parte che alle 15 le trasmissioni di Fano TV e di Televoci Cristiana sul canale 216 si interromperanno per 10 minuti dopodiché riprenderanno in diretta con il rosario dalla cappellina che abbiamo qui nella nostra sede la cappellina dedicata alla Divina Misericordia quindi alle 15 sospenderemo per 10 minuti i programmi noi ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhia la Notizia grazie per averci seguito a voi tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.